Ogni diciottenne è solo una cosa, spera, possedere una carta, una tessera rosa che ti permette di arrivare ovunque. Per possederlo bisogna fare un esame, un esame che sembra difficile e ti sembra impossibile per te fuori da questo mondo. Ma appena ci entri capisci che in realtà è un esame come gli altri ed è una cosa molto normale, però questo è un altro paio di maniche. Ah, comunque se ti piacciono questo stile di video, io sono Pier e benvenuto in questo nuovo scintillante video. Leggendo il titolo ci sei fatto questa domanda, ma perché stai parlando di questa cosa? Per flexarvi il fatto che io ho preso la patente. Ma ho deciso di prendere la patente per un motivo molto semplice. Io abito in provincia, no? Quindi per muovermi, per andare a scuola, per andare al cinema, per andare al teatro, ho bisogno di muovermi con la macchina perché molte volte con i mezzi non ci puoi arrivare. Comunque sì, queste sono le mie motivazioni perché le ho presa, ma il mio esame, in cosa è consistito e soprattutto come sono andate le lezioni, come è stato frequentare la scuola guida. Come è stato frequentare la scuola guida? Intanto insieme al corso offrivano un servizio navetta e quindi salivi alla fermata sul pulmino, stavi sul pulmino il tempo che serviva per arrivare alla scuola guida, entravi nella stanza della scuola guida dove c'erano le sedie e ti mettevi a seguire le lezioni. Sì, queste immagini in sovraimpressione non sono della scuola guida, ma sono del mio studio, ma sapete, questo video lo faccio a posteriori, io già ho preso la patente e in quel momento non potevo registrare. Poi dopo le lezioni mi hanno preparato anche per fare i test, i quiz della teoria, ovvero andavo lì dopo le lezioni, dopo la fine delle lezioni, per fare i quiz di teoria con l'istruttore e con anche la spiegazione dei quiz errati. Ma gli esami in cosa consistono? Ora il mio esame di teoria è stato molto semplice, l'esame di teoria è stato molto normale, molto nella media. Mi hanno portato in motorizzazione a Torino, dato che nella mia zona è il posto dove fare gli esami di teoria a Torino. Ci hanno fatto entrare, ci hanno fatto aspettare, c'erano i commissari che ci hanno fatto posare tutti i telefoni, giustamente, oserei dire, almeno facciamo le cose onestamente, ci hanno messo sulla postazione, che aveva anche il riconoscimento del volto per vedere se anche tu non stessi copiando. Ho fatto iniziare l'esame, ci hanno fatto fare tutti i quiz e io l'ho passato con il massimo punteggio, ovvero non ho fatto nessun errore, ricordo che per passare l'esame di teoria puoi fare al massimo tre errori. Ma dopo l'esame di teoria ovviamente avviene l'esame di pratica. In che cosa consiste l'esame di pratica? Quindi, cosa consisteva l'esame di pratica? Intanto l'esame di pratica, prima di fare l'esame, bisogna fare le guide. Sono sei ore di guide da fare, le fai con l'istruttore della scuola guida, lo stesso che ti ha fatto la teoria, ti fa anche le guide. Quindi ti metti lì, guidi per la città, fai i tuoi incroci, ti prendi i cacciatoni, e ti spiegano come guidare in città, come guidare in autostrada, perché è obbligatorio fare le guide in autostrada. Diciamo, testano le tue abilità nella guida, anche quella notturna, perché poi se loro ti ritengono pronti dopo aver fatto le sere di guida, ti mandano all'esame, se non ti fanno fare più guide, ovviamente ogni ora di guida ha un costo per l'istruttore che lo paghi poi alla fine di tutto, dopo l'esame. L'esame di guida che cosa consisteva? Praticamente sia nella macchina della scuola guida, la stessa su cui hai fatto le guide, con il tuo istruttore accanto e l'esaminatore dietro, che segna tutte quante le cose, gli errori che fai e cose varie. Io non l'ho fatta, diciamo, nella cittadina, dove di solito si fa nella mezzano, ovvero Pinerolo, ma l'ho fatta a Cuneo. L'esaminatore, in quel giorno, boh, non aveva voglia di fare il suo lavoro, quindi mi ha fatto fare due rotonde, mi ha fatto entrare in autostrada, mi ha fatto fare il giro della circonvallazione di Cuneo, mi ha fatto rientrare e mi ha fatto accostare e mi ha dato la patente. In conclusione, è stato facile o difficile prendere questa patente? È stato nella norma, non è stato proprio facilissimo, ma non è stato neanche difficilissimo, è stato normale. Quindi, se qualcuno avesse dei dubbi sulle proprie capacità, se ce l'ho fatta io, ce la può fare chiunque, basta soltanto mettersi un po' in piedi. Grazie a tutti! Grazie a tutti.